Buongiorno a tutti, allora 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 inizia la nottatona del gigione, tre bei video, due di calcio, uno di formula 1 perché andremo a rivedere, vi riracconto, il gran premio di Imola perché sono riuscito a vederlo, anche le prove e quant'altro, ma adesso prima di tutto andiamo in serie B perché si sono disputate le due semifinali di ritorno dei playoff. Dopo che l'altro giorno il Bari è andato a disintegrare la povera Ternane a mandarla in serie C vincendo 3 a 0 a Terni, tra venerdì e ieri si sono disputate le gare di ritorno dei playoff di serie B per le due semifinali, Venezia-Palermo e Cremonese-Catanzaro. All'andata Venezia-Palermo, anzi Palermo-Venezia perché si giocava in Sicilia, ha visto la vittoria del Venezia 1 a 0, mentre invece Catanzaro-Cremonese perché si è giocato giù in Galabria, la gara è terminata 2 a 2 col Catanzaro che ha rimontato lo 0-2 iniziale. Quindi andiamo a vedere come è andata, innanzitutto partendo da Venezia-Palermo giocata venerdì. Venezia che ha messo subito le cose in chiaro dopo quattro minuti grazie a Tesman, poi a fine primo tempo il buon Candela, non penso Candela ma Candela, Antonio Candela, quindi penso che sia italianissimo, ha portato il Venezia sul 2 a 0 e ha chiuso subito alla fine del primo tempo i conti perché a quel punto il Palermo avrebbe dovuto segnare addirittura quattro reti per poter vincere perché anche se avesse vinto 3 a 2 non sarebbe stato sufficiente. Alla fine Svoboda ha segnato nella propria porta il gol della bandiera del Palermo che viene quindi eliminato dal Venezia con il risultato con l'aggregate finale di 3 a 1. Quindi praticamente il Venezia terzo ha abbattuto il Palermo che alla fine del girone del campionato era sesto. Quindi ci sta, ci sta. La terza contro la sesta ha vinto la terza. Purtroppo per ora per ora non ci sono state sorprese. La terza è in finale, vediamo se anche la quarta è riuscita ad arrivare in finale oppure no. Perché qua per ora San Giovanni non fa inganni. Quindi le due squadre, almeno una, l'altra vediamo. Però la prima, almeno una, è in finale. La terza è in andata in finale. Bisogna vedere la cremonese cosa ha combinato col Catanzaro perché ragazzi miei il 2 a 2 lasciava aperto ancora delle chance per il Catanzaro che comunque 0 a 0. Eh no, è vero, è vero perché il Catanzaro aveva una classifica inferiore alla Cremonese. Cremonese quarta a Catanzaro se non erro era quinto. Indi per cui la Cremonese col pareggio sarebbe passata allo stesso. Però non era 1-0-1 come per il Palermo che era costretto a vincere con due gol di scarto fuori casa. Qua basta vincere. Quindi andiamo a vedere come è andata invece la gara. Se mi fanno vedere la gara. Puff. 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 Eccoci qua. No, mi vogliono fare impazzire. Eccoci qua. Cremonese, Catanzaro. Cremonese che appunto aveva fatto 2 a 2 nella gara d'andata ha fatto peggio, tra virgolette, in senso positivo rispetto al Palermo perché addirittura al trentasettesimo del primo tempo la Cremonese era già in vantaggio per 3 a 0. Grazie a Vasquez. Bouchard. Buon aiuto, buon aiuto. Scusate, chiedo Venia. Buon aiuto. È andata anche in tilt il cellulare. Buon aiuto. E a Coda. Coda è, ragazzi miei, Coda è l'attaccante number one della serie B. È un giocatore che fa la differenza in serie B e spesso capocannoniere in serie B. Chi ce l'ha ne usufruisce alla grande. Quindi Cremonese che già alla fine del primo tempo era sul 3 a 0. Poi il buon Sernicola che mi ricorda sempre il cagnolino, anzi no, il cane che c'aveva al cane che gli faceva da cavallo, tra virgolette, in labyrinth. Sernicolas. Sernicolas. E c'aveva al Bobtail che gli faceva. Bobtail paurosissimo. Ma il Sernicola mi ricorda sto personaggio qua di labyrinth. Con quel buon Leonardo Sernicola ha fatto pure il quarto. E solo all'ottantesimo il buon lui, Mattia Santonini, lui, ha accorciato le distanze per il Caldanzaro che tra l'altro ha subito pure l'espulsione di Brignola al sessantatresimo quando il punteggio comunque era già sul 3 a 0. Quindi ragazzi miei, per ora, ma solo per ora perché poi adesso c'è la finale tra Venezia e Cremonese. Chi passerà? Chi vincerà? La terza o la quarta? Come l'anno scorso. L'anno scorso Bari terzo contro Cagliari quarto. Quest'anno Venezia terzo contro Cremonese quarta. Sarà l'esito uguale all'anno scorso? A temi controllare l'anno della Sziar serie B? se era giusta terza contro quarta o no. 2022-23. Classificau, meravigliau. Bari terzo. Cagliari addirittura quinta. Era pari punti con il Parma. Ha fatto la finale con il Bari che era terzo e all'ultimo minuto quel gollettino, se non erro, di Lapadula o dell'altro giocatore d'attacco. Fece la differenza nel Cagliari e il Bari e il Cagliari beffò il Bari e quest'anno il Cagliari si è anche salvato, ragazzi miei. Eh sì. Poi vedremo come andrà domani, anzi oggi, perché oggi c'è alle 20.45 c'è la partita basilare, se non sbaglio. Comunque, ragasso, li vedremo, vedremo adesso le prossime gare, come si svilupperanno, come saranno. Dovrebbe esserci prima Cremonese-Venezia, che si disputerà, adesso vi dico quando, ma senza sapere quando, perché non va giù. Oh, bene. No, perché voglio sapere la prossima gara quando si giocherà. Eccoci qua. Cremonese-Venezia si giocherà giovedì prossimo, 30 maggio. La gara di ritorno si giocherà domenica 2 giugno, tutte entrambe alle 20.30. E lì sapremo chi tra Cremonese e Venezia verrà in Serie A. Varrà come sempre la maledizione del terzo posto, quindi Cremonese in Serie A che beffa al Venezia. O una volta tanto, la terza classificata della Serie B, riesce a vincere i play-off e a salire in Serie A. Eh, ragazzi miei, è dura, è dura, soprattutto perché la Cremonese ha questo coda. Certo, la Venezia, poi Ampalo. Ed è una bella sfida tra bomber, da una parte coda, dall'altra poi Ampalo, che appunto è anche il capocannoniere della Serie B quest'anno. Vedremo come andrà. Io ho detto, non me ne voglia, il buon catto detto Cremonese, anche perché ragazzi miei, l'anno scorso dalla Serie A alla Serie B sono scese Cremonese, ultima. Sampdoria, penultima, e Spezia che ha fatto lo spareggio col Verona. Una, una, fatela salire, una, almeno una. Tra l'altro, le tre che sono venute in Serie A, quindi l'anno scorso, Cagliari che si è salvato. Frosinone, punto di domanda, e Genova che è salvo. Quindi per quello vi dicevo, se tanto mi dà tanto, o si salva anche il Frosinone. Quindi di tre che sono salite in Serie A si salvano tutte e tre, e le tre che sono scese in Serie B non ne vengono su neanche una, il Como, il Parma e il Venezia, perché la Cremonese era retrocessa l'anno scorso. Vedremo, vedremo, certo, sicuramente, Como, squadra già stata in Serie A, Parma che ha avuto anche bei periodi dal libidino in cui ha vinto delle coppe importanti, anche europee, e Cremonese o Venezia che sono squadre che comunque la Serie A l'hanno vista da poco. Cremonese retrocessa l'anno scorso, Venezia due o tre anni fa. Quindi, ragazzi miei, non è che c'è, arriva qualcosa di nuovo, una squadra nuova che arriva, non so, un Zuttirol, una regina che sono anni che non viene in Serie A, però anche la regina in Serie A c'era, la regina del mitico Mazzarri che si salvò con una marea di punti di penalizzazione quell'anno. Il Modena, il Pisa che non viene in Serie A da un sacco, l'Ascoli purtroppo è retrocesso in Serie C e non l'hanno presa benissimo i tifosi. Ce ne sono di squadre che... Modena in Serie A mi sembra che ci sia stato, nei secoli passati, nel secolo scorso però c'è stato anche lui. Se non sbaglio, però magari mi sbaglio. Vedremo, vedremo chi tra Cremonese e Venezia verrà in Serie A. Francamente sono due squadre che mi stanno simpatiche tutte e due, quindi chi sale sale, non è... Ho detto Cremonese giusto per una questione di Lombardia, perché sarebbe una libidine avere in Lombardia Inter, Milan, Como, Atalanta, Cremonese e Monza. Sei squadre. Sei squadre su venti Lombarde. Mi sa che molti storcerebbero il naso, gli darebbe molto fastidio, eccetera, eccetera, eccetera. In compenso avremo sempre due squadre emiliane, il Bologna e il Parma in Serie A, visto che il Sassuolo è sceso in Serie B. Beh, in attesa giovedì prossimo 30 maggio di sapere come andrà l'andata di Cremonese-Venezia, io vi saluto, vi ringrazio e vado a vedere come sono andati i play-off di Serie C, per capire quale potrebbe essere, anzi no, perché sapremo quali saranno le semifinali di Serie C, perché si sono giocate le gare di ritorno dei quarti di finale che hanno... Non aggiungo altro, non spoileriamo prima del tempo, però devo dire che ci sono stati puntini di sospensione. Ciao!